Il cross all'interno dell'area, ogni volta da tremare, poi Iaquinta parte Milos, parte Milos da solo, Milos fai tutto da solo, lo affianca Iaquinta, Milos mette la freccia, Milos, è velocissimo Milos, metti la Milos, parte a volta Milos, la traversa Milos, la traversa di Milos, ancora! Ha fatto tutto da solo, è andato via con il turbo Milos, ne ha fatti i secchi tre, si è allargato sull'uscita di Squizzi e poi il tiro direttamente sulla parte alta della traversa di Milos, eh ragazzi non la vogliamo vincere però!